grande del prato grande del prato grande del prato grande capitano grande capitano ancora l'andiamo vincere ragazzi ancora ancora l'andiamo vincere all'ottantanovesimo col capitano ancora lui a segno parma brescia ragazzi diamo un commento veramente rapido volevo solo dire due parole perché lo sapete ho fatto la mago cronaca ed è stata una goduria una godura immensa comunque in due parole possiamo racchiuderla così possiamo dire che siamo andati sotto siamo andati sotto e ringraziamo pecchia che ancora ha schierato osorio osorio che voi qualcuno dirà ma non ha un'unica colpa è stato un rimpallo sì ho capito rimpallo però ragazzi ma avete visto come cazzo ha chiuso le gambe cioè ma un dispensore in serie b quando c'è un tiro che fra l'altro neanche tanto forte ma può muovere le gambe in quella maniera lì che se l'è fatta passare sotto la colpita di tacco ma che cazzo ha fatto cioè capisco se l'ha lasci passata i passi in mezzo ma non si sa ha incrociato le gambe come a ribaltarsi e praticamente ci ha fatto ci ha deviato il pallone ci ha fatto prendere gol quindi lì osorio ci mette il suo zampino e vabbè andiamo sotto dopodiché praticamente ci ritroviamo che abbiamo anche la possibilità di un calcio di rigore con bene bene che non fallisce mai ma stavolta stavolta la fallisce incredibilmente sbaglia rigore benedizio la partita sembra stregata ma per fortuna dopo fuori di insistere il parman cresce e trova il pareggio con dennis man e qui grazie dennis perché stavolta recupera in pressing un pallone d'oro qui chiaramente una cavolata in errore del difensore del brescia ma anche una grande capabilità di dennis che ha voluto questo gol e niente quindi a questo punto dennis ruba il pallone all'ultimo difensore si presenta davanti al portiere e questa volta finalmente freddo la riesce buttare dentro ma non è finita perché il parma non vuole prendersi solo un punto vuole riprendere tutta la posta e e caro il mio pecchi ancora una volta ce l'hai fatta nel senso che è successa una cosa impossibile forse l'unica cosa bella che ha fatto osorio in tutto il campionato osorio ce lo ritroviamo in attacco e fa un cross perfetto per del prato che a sua volta colpisce di testa da attaccante puro incrociando il pallone buttandolo a fil di palo e gol e gol del 2 a 1 all'ottantanovesimo senza parole perché ennesimo gol di del prato che ha contribuito attivamente ai punti che abbiamo osorio stavolta gli devo dare 6 perché oltre alla solita cappella però stavolta ha fatto un cross pennellato l'ultimo minuto che questo assist è valso i tre punti in collaborazione ovviamente con l'ottimo capitano e niente quindi gli do 6 giusto perché appunto ha fatto l'unica cosa buona del suo campionato con questo assist per il gol del prato ennesimo gol che facciamo gli ultimi secondi praticamente gli ultimi minuti di gioco però va bene così si vede che ormai è una caratteristica nostra ce la praticamente abbiamo la serie a in tasca e questo è da dire perché rispetto alla terza siamo non so quanti cazzo di punti però però devo dire che la cremonese c'è una figa incredibile cioè noi ok siamo capabili c'entra la cremonese in attacco cioè c'è solo coda sul rigoro no e praticamente alla difesa sì la difesa c'è la buona sicuramente più buona della nostra però anche stavolta ragazzi ho visto il gol di zanimacchia cioè con noi non ha fatto praticamente un cazzo e questi qua l'ho vista all'ultimo secondo quasi insomma l'ultimo respiro gli va a fare un tiro dritto che è partito come un missile che non niente non girava neanche il pallone dritto dritto da posizione defilata è andato a stamparsi all'angolino imparabile a una mina terribile niente gli è venuto il gol anche lui il gol della domenica o meno il gol più bello di zanimacchia in questo campionato forse anche l'unico non lo so però secondo me se ci prova altre 50 volte non gliene viene questa qua una ecco niente va bene questo è valso i tre punti anche proprio purtroppo per la cremonese speravo in un pareggio però alla fine dai vittorio cremonese il comandato e ormai devo dire che siamo solo noi che dovremmo perdere le metà per riuscire a non beccarci la serie a quindi adesso ragazzi andiamo addirittura ferralpi salope in ultima in classifica no andiamo a giocare con la ferralpi quindi qua ci vuole tre punti ovviamente non bisogna fare dei passi falsi e finita così ci becchiamo altri tre punti e via andare e niente ragazzi volevo solo spendere queste due parole grazie del prato grazie per questo gol che mi ha fatto gioire in margot cronica pensavo addirittura avesse segnato bernabè perché tutto inquadrava tutto sembrava che avesse segnato bernabè dopo e niente dopo ho festeggiato del prato ma è stato bellissimo ennesima goduri insperata io ormai non ci credevo mica mi dispiaceva perché pensare a quell'osorio che non riesce neanche a respingere un pallone e neanche se lo fa passare a mezzo le gambe ma lo va addirittura deviare nella nostra porta e niente mi avrebbe fatto rabbia perdere due punti per colpa di osorio ancora andata bene che ha rimediato del prato e lo stesso osorio che c'è da dire ha fatto il cross e quindi niente forza prama ragazzi la magia sia con voi e ci vediamo alla prossima ciao a tutti iscrivetevi